Paolo Paoli New! Iscriviti al canale, mettete più mi piace, più like, grazie, condividete, commentate e non perdere tutti i miei video! Buona visione da Paolo Paoli New! E oggi parliamo delle anteprime stive, tra cui i gelati, i testive e i fumetti. Mario Cardi S, la riva delle Pagni, che bello! Sono nella riva delle Pagni, sono in spiaggia, evviva! Oh, le principesse gemelle stanno andando al mare! Ragazzi, le principesse gemelle stanno andando al mare adesso! Ricordetevi che le principesse gemelle stanno andando al mare, ok? Paperino 491, aprile 2021, 3 ore 50! Paperino, va! Al mare prima del giugno! No! Sexy, va in piscina con Chuck e fa vedere il suo costume da bagno! Loro giocano nel giugno, come se fosse a mare, ma c'è le onde e quei due hanno dimenticato di portare il surf della nonna, ma la nonna li servono in gommone e porta i loro vestiti. Poi abbiamo i sminchi, mestieri impossibili, il bannino, soggetto e sceneggiatura di Augusto Manchetto e disegni di Roberto Mancini. Sì, stiamo scherzando! Questa storia, siamo nell'estate 2021 o no? Yeee! Che scema storia, ma è una puttana dell'estate 2022! O 2021! Banzo e colmi! E cazzo! Lo sapevamo! Vatene via! Mario, caro 64! Spiaggia di Cuba! Oh, che bello! Posso anche speciare, posso anche fare il parapendio a tutti quanti! Ma le avventure di Molang nelle prime tre stagioni, in spiaggia, mi piace molto la puntata di Molang e Più Più e i suoi amici che vanno in spiaggia, raccogliono le plastica, raccogliono cose, eccetera eccetera, mi piace questa molta puntata perché mi piace molto l'estate e bella in viceversa. L'or monocco di Topolino che è assolutamente il mio preferito, il mio preferito. Eh, eh, è estate! Wow, cazzo! Dicimi? La nave di Desi! Oh, che bello! Si può immergere nella nave di Desi! Si può immergere nella mare di neve di Desi! Andiamo, oh! Andiamo a entrare a cera! Ciao, ciao, ciao! È statissimo! Giugno a 3,90 euro! Papperino ai nudo? Eh, Papperino ai nudo! Non mi basta più, e non mi basta più! Bah! Ma stiamo scherzando? Siamo in estate e non ci siamo raccorti! Nooo! E poi... Viva l'estate! Il ghiaccio lo guardo ogni estate su K2! Ciao! 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 Grazie a tutti.